Questo sarà un video molto tag life Ok basta E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui su Marsha of Empyre in compagnia degli iNoob Channel Bella ragazzi Ciao da Spawn Eccoci qua Ciao da Spawn Bella ragazzi camper E lo motherfucker dov'è? E lo motherfucker Bene ci siamo E ragazzi trovate questo gioco in descrizione e lo potete scaricare gratuitamente per iOS e Android Android sono d'accordo Questo video in collaborazione con Gameloft però è molto tag life perché guardate Chi scegliamo? Quello più figo Questo fa un po' schifo Io scegno quello Voglio giocare hardcore No questo fa schifo il sultano ma perché dobbiamo scegliere il sultano? Perché il sultano ha questi Scegliamo il sultano Sì ma fa veramente schifo questo personaggio Chi è questa? Si può comprare con i soldi questa? Potete scegliere questo come personaggio molto meglio Infatti tieni Ah col sultano usi questi e prendi quella personaggio eletto Tieni Compriamola Sateci il nostro personaggio con le tette Penso che il sultano sia abbastanza felice ora Quindi dobbiamo costruire Ma se le costruiamo ce le esce? Sì Vai Costruisci Costruisci Servono ancora soldi qui siamo pieni Baracca No la baracca no La baracca in inglese è il campo di destramento Campo è però purtroppo tu ti sei tanto vantato prima che c'avevi i big money Però noi abbiamo soldi soltanto per una baracca Eh perché queste sono banconote da un dollaro E il cambio dollaro monetine d'oro è ancora ignoto Quindi Quindi baracca Vai di baracca Questa sia Ce le esce lo stesso Speriamo Speriamo Baracca costruita Che ha detto? Ve lo uscite? Dai baracca è il campo di destramento Puoi trainare a unità Addestrare a unità Puoi addestrare Uomini? No Brazzo crew direbbe proprio di no Eh ma solo quelli combattono perché nel 42 Scusami E Miss Italia è reincarnata in questa epoca E lei non può combattere quindi ci sono gli uomini che combattono Quindi aspetta ricapitoliando Eh è complicata sono d'accordo Noi siamo il sultano Con i soldi Che abbiamo comprato Miss Italia Che però è amante della guerra E non può andare in guerra Quindi con i nostri soldi ha comprato soldati per andare in guerra Ma è una p***a Abbiamo fatto i soldi è una p***a Ma ci ha fregati Che strano Tutte le volte Tutte le volte Ok andiamo in battaglia Cosa sta dicendo? Attacca Attacca Devi fare la formazione 4-4-2 No io 4-3-3 per me Questa è l'albero di Natale però Illuminati Illuminati Quindi bisogna dargli dei soldi per potenziare Quindi per niente questo non è un gioco da papponi Papponi è simulator Sto schierando tutti Mi butta tutto Fai all in E' a posto All in Attenzione Stanno andando Stanno per attaccare Come si muovono bene Come sculettano bene E qui si ammazzate Perché se non hai fuoco a un villaggio Sei un coglione Figa Cioè Erano le banche del medioevo Attenzione Ci vogliono sfidare Ci vogliono gambare Sì ma noi siamo 1500 in più di loro Cazzi loro E' un massacro Mi piace di massacri Come ti vuoi chiamare Devi scegliere il nome del tuo sultano Pappone Pappone non è accettabile Pappone Come non possiamo scegliere pappone L'ha accettato Pappone 23 va bene Pappone 23 l'ha accettato Livello 2 Livello 2 Continuiamo a salire di livello Cioè qui i livelli Piovono come il denaro Luca è caduto dalle nuvole Piove Piove il denaro Me ne vado Le battute di Camper Shusha Abbiamo vinto Una pagnotta Daily Arm E' pane E' tipo lo scrigno del giorno Sì Il pane E' pane non è uno scrigno E' pane Food pane E' pane E' una pagnotta 20.000 di pane 20.000 pagnotte Abbiamo esagerato Beh il sultano E' un po' abbondante Non dargliele alla donnina Che poi Mi diventa una ciccione Omo de panza Omo de sostanza Questo mondo che E' enorme Quindi dobbiamo andare da Durmaz Se fa la battuta Mi disiscrivo dal tuo canale Che battuta scusate Se la fai Mi disiscrivo dal tuo canale Cosa c'è di strano Andiamo da Durmaz Eh Cosa c'è di strano Eh lo so Ti conosco fin troppo bene Ti conosco fin troppo bene Vai avanti Va bene Ah Quindi vuol dire Che c'ha la mazza E non dire cosa stai facendo Perché altrimenti giuro che Cosa sto facendo Hai appena tolto Un mazzo tanto così L'ha detto Ha detto Camper ha appena detto Un mazzo tanto così I duplitensi sul signor Durmazo Potremmo anche smettere di farli E attaccarlo Distruggere il suo villaggio Prego Allora bisogna schierare la formazione Quindi tu clicchi qua Vedi io l'ho già capito Entra in campo Entra in campo Mettiamo il nostro eroe Col cavallo Bene Che possiamo fare intanto Possiamo contare soldi Contare soldi Bene Direi che il nostro lavoro È stato fatto Da sultano È stato fatto Guarda qua quanti big money Anche camper ha ottenuto Il suo reward Una pagnotta Una pagnotta Una pagnotta Sono uno stronto di turno E anche oggi si cena camper Anche oggi puoi cenare E noi invece possiamo Farcelo uscire Da tutte le sultane Sono troppi Sono troppi Quindi camper Tu mangia la pagnotta E noi ce ne andiamo Ok va Due pagnotte Ciao Tre pagnotte Ok Tre pagnotte Grazie a tutti Grazie a tutti